Scherzando con il sindaco di Eboli diceva adesso ti puoi candidare ad avere la bandiera blu pure tu come sul litro l'hai l'omizio. Scherza con i giornalisti il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca partecipando all'inaugurazione dell'impianto di depurazione a coda di volpe invitando il sindaco di Eboli a candidarsi alla bandiera blu. L'impianto si trova nel comune di Eboli in quella località che è divenuta tristemente famosa dopo il periodo dell'emergenza rifiuti che interessò la Campania per aver ospitato per anni migliaia di ecoballe di rifiuti. Dopo un importante intervento di rifunzionalizzazione l'impianto oggi è entrato ufficialmente in funzione dotato anche di una control room per sovvegliarlo H24. Gli effetti sulla depurazione potrebbero essere visibili già dall'estate come hanno auspicato i primi cittadini della Piana del Sele. L'intervento ha potuto contare su un finanziamento della regione Campania di circa 8 milioni di euro ma come ha ricordato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca rientra in un progetto più ampio a servizio di 43.000 abitanti che riguarderà anche il litorale di Battipaglia, il fiume Tiusciano e che cambierà il volto del territorio dove si attende l'avvio definitivo del Master Plan Sud ma anche la rientrata in funzione dell'aeroporto Costa d'Amalfi. Pensate che fino ad oggi veniva scaricato tutto a mare quindi potete valutare l'importanza di questo intervento di collettamento. Davvero una cosa importante. Ecco, ci sono 20 milioni stanziati per il Master Plan in questo territorio quindi la costa da Ponte Cagnano a Capaccio può essere veramente rilanciata? Guardi, qui c'è un'opportunità di sviluppo davvero straordinaria. Abbiamo un territorio che non è tutto sommato cementificato in maniera insostenibile abbiamo ancora delle aree nelle quali si può fare una programmazione urbanistica di ottimo livello. Io sono molto fiducioso anche perché Stefano Boeri ha fatto un lavoro preparatorio molto attento quindi davvero la fascia costiera di Campania Sud come dico io cioè a Ponte Cagnano fino a Cilento può essere una delle carte e lo sviluppo turistico più importante di tutta la regione. Dobbiamo lavorare, ovviamente bisogna fare la corsa contro la palude burocratica dobbiamo augurarci ovviamente che si sblocchino i fondi sviluppo e coesione bloccati da un anno nella palude burocratica del Ministero della Coesione dopodiché credo che possiamo guardare davvero con fiducia nel futuro. Presidente, corsa anche per completare l'aeroporto? tra un mese e poco più si parte con il primo volo? L'aggettivo storico diventa un po' abusato ormai in Campania però è un altro obiettivo storico che raggiungiamo grazie alla regione Campania perché come sapete abbiamo deciso come regione di fare la fusione con Gesa, con Capodichino abbiamo investito risorse importanti come regione sia dentro l'aeroporto che nelle aree di contorno per la viabilità per i parcheggi adesso si sta lavorando per avere un servizio di vigili del fuoco adeguato a un aeroporto che parte però questa sarà davvero una svolta definitiva per l'area sud della Campania noi non ci rendiamo ancora conto ma è un aeroporto che entra pienamente in funzione parte ovviamente a luglio ma nell'arco di due anni e mezzo, tre anni noi contiamo di portare tre milioni di visitatori qui quindi un aeroporto cambia davvero il destino economico di un territorio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti